Siamo con Andrea Di Stefano, parliamo di elezioni primarie e quindi da oggi per tutta la settimana ascolteremo i candidati che si confronteranno il 15 di dicembre nelle primarie per la presidenza della giunta regionale della Lombardia ricordiamolo che si va a elezioni anticipate dopo due anni e mezzo della quarta legislatura con presidente Roberto Formigoni Siamo in studio ovviamente con Andrea Di Stefano ma siamo qui in tanti Vabbè, visto che ci lasci presentarci da soli, buongiorno anche a tutti da parte mia Massimo Bacchetta Buongiorno da parte mia Andrea Di Stefano Eccoci qua Manca Letizia adesso Arriverà Letizia Mosca Benvenuto Andrea Di Stefano, candidato, insomma le anomalie radiofoniche qualcuno le noterà? Da qui alle dieci e mezza, quindi sono cinquanta minuti, con le telefonate anche degli ascoltatori e gli sms lo dico subito, allo 0233 001 001 la possibilità di telefonare l'email a diretta a chiocciolapopolarenetwork.it gli sms al 3316214013 C'è il primo di tre incontri con i candidati direttamente a microfono aperto con gli ascoltatori di Radio Popolare Da qui alle dieci e mezza, Andrea Di Stefano, di tempo ce ne sarà parecchio per fare le domande Tutte le degli ascoltatori e anche le nostre Cominciamo dall'ultima, quella che immagino sia la tua esperienza ora per ora Come sta andando questa campagna elettorale? Subissata diciamo o quantomeno obbligatoriamente in secondo piano a livello così mediatico fino alle ore scorse dal punto di vista delle primarie nazionali e adesso invece qui in Lombardia solo questo c'è Come sta andando? Il mio termometro è molto positivo però è il mio punto di vista ovviamente di parte nel senso che in base agli incontri, alla presenza, alle folle che si incontrano e il fatto che le sale sono strapiene addirittura con gente che non riesce a entrare vuol dire che la mobilitazione c'è poi evidentemente è un termometro come vi dicevo particolare nel senso che è quello di chi è dentro il frullatore di una campagna per le primarie che dura meno di due settimane di fatto perché chiuse quelle nazionali ci rimangono nove giorni considerando anche il ponte Con gli altri candidati come sta andando? Con gli altri candidati francamente non mi sono più rivisto dopo quell'appuntamento del San Carlo Il primo incontro pubblico che c'era stato? Esatto, il primo e per ora l'unico forse ci rivedremo negli appuntamenti che sono stati fissati dal comitato civico e che dovrebbero essere a Brescia, a Como e un confronto televisivo poi c'è una richiesta enorme di fare altri incontri però per ora io non ho conferme della presenza sia di Alessandro Acusti ma sia di Umberto Ambrosoli Fa ragginose le regole anche in questo caso come qualcuno ha detto per le nazionali? No, mi sembra che le regole qui sono abbastanza chiare c'è un difetto fondamentale che i tempi sono molto stretti e bisognerebbe che il comitato civico facesse un po' di comunicazione per dire che ci sono le primarie perché io credo che molte persone chiamate per la terza volta perché spesso sono le stesse alle urne peraltro di un sabato che è l'ultimo prima di Natale è uno sforzo in mano ed è fondamentale comunicarlo, far sapere rispetto al nazionale tra l'altro abbiamo questo target chiaramente resterebbe molto mobilitare che è quello dei più giovani, i 16-18 anni che però se non sanno che ci sono le primarie e non li coinvolgiamo, non riusciamo a parlargli difficilmente poi arriveranno alle urne Prima di lasciare poi tutti i temi, gli argomenti specifici stando ancora a cavallo con la vicenda nazionale con le primarie nei giorni scorsi andavamo ai seggi Letizia Moschera è andata ai seggi appunto anche spesso a chiedere a persone che votavano lì se avrebbero votato alle primarie regionali risposte diversificate mediamente la risposta Letizia conferma mi era sì penso di andarci, non ho ancora capito bene Tutti dicevano sicuramente torno a votare ma nessuno era strassicuro di quello che avrebbe votato molti proprio non ne avevano ancora idea dicevano non conosco i programmi Ecco, siamo in una situazione in cui anche di tutti i candidati non sappiamo cosa hanno votato alle primarie e se hanno... no, che hanno votato lo sappiamo io l'ho dichiarato... appunto, ho detto non di tutti ah, non di tutti ah sì, scusami io ho votato Nicchi Vendo al primo turno e Bersani al ballottaggio c'è secondo te il problema che un candidato non dica che cosa ha votato? non è un problema, però secondo me è logica di trasparenza esprimere la valutazione non capisco cosa significa dire il voto è segreto dai, sono le primarie alla fine, certo, una erano le primarie del PD e queste sono primarie del Comitato Civico però l'area è quella lì insomma, non è che possiamo stiracchiarla più di tanto quindi la trasparenza sul voto a me sembrerebbe una scelta giusta nei confronti dei cittadini che si richiamano poi a votare per la terza volta e soprattutto degli organizzatori vorrei sottolineare questo perché se ci viene permesso di fare le primarie in regione Lombardia dobbiamo ringraziare quelle migliaia di militanti che si sobbarcano un'ennesima costituzione di seggi il voto, lo spoglio cioè un lavoro veramente in mane di tutto di volontari andiamo diretti sui temi a questo punto Letizia, Fabio? sì, cominciamo con il lavoro cominciamo con il lavoro perché ieri la Cigelle Lombardia ha presentato i dati sui licenziamenti quest'anno stima che saranno 60.000 licenziamenti stima più che realistica perché a fine novembre era già 57.000 e la Cigelle chiede che il prossimo consiglio regionale tiri fuori 50 milioni che li metta a bilancio per gli ammortizzatori in deroga che è rimasto senza lavoro in realtà di soldi ne servono molti di più ma questa non tutti sono a carico della Lombardia e comunque prima cosa 50 milioni ecco in questo quadro da fondo del barile che stiamo raschiando la proposta di Di Stefano di reddito di cittadinanza e salario di disoccupazione è una proposta che va a prendere soldi dallo Stato sociale e che potrebbe avere l'effetto pochi soldi a tutti insufficienti invece che concentrarci su chi ha perso lavoro No, allora innanzitutto il tema lavoro è un'emergenza non possiamo pensare che lo faccia lo Stato nazionale anche perché non mi sembra che l'impostazione sia quella di rimettere in discussione il welfare se non di tagliarlo e quindi la mia proposta è quella in una situazione così emergenziale di recuperare soldi non dallo Stato sociale ma dalla spesa produttiva della sanità che si può individuare molto bene se poi volete entriamo nel merito e destinarle a un salario di disoccupazione a un reddito di cittadinanza temporaneo con un miliardo e mezzo saremmo in grado di dare 416 euro a 300 mila lombardi la Banca d'Italia dice che in Lombardia sono un milione e otto le persone sotto la soglia di povertà e quindi noi potremmo dare un sostegno al reddito a 300 mila persone non dando solo i soldi ma costruendo dei progetti perché si è visto con tutte le esperienze internazionali dove questa forma di reddito è costante la Germania, l'Inghilterra, la Francia che non basta avere la disponibilità di reddito ma bisogna anche avere dei progetti di inserimento delle persone e credo che in Lombardia con la rete del volontariato dell'associazionismo gigantesca che c'è va solo mobilitata e può dare una risposta con dei progetti seri poi possiamo fare un'altra cosa abbiamo i lavoratori precari e una fascia di lavoratori con soldi di reddito molto basse potremmo lavorare sull'utilizzo dell'IRPEF regionale aumentando le detrazioni e quindi recuperando ulteriori soldi le detrazioni IRPEF recuperando ulteriori soldi per una fascia di lavoratori che non è in una condizione di totale povertà perché non ha più nessun reddito ma un reddito talmente basso che ha comunque bisogno di aiuto questi soldi non si prendono dall'assistenza anzi noi abbiamo un bilancio della sanità che vale 18 miliardi di euro questo bilancio è pieno di problemi bisogna prendere il toro per le corna e dire guardiamo mettiamoci il naso dentro anche perché veniamo da 17 anni di un'impostazione sanitaria che è ispirata a una filosofia che secondo me è sbagliata che è quella della cura invece della cura ospedaliera invece che della prevenzione della presenza sul territorio e lì ci sono molte sacche dove risparmiare a cominciare ovviamente dalla revisione dell'accreditamento perché siamo la regione che destina un 44% delle sue risorse al privato sulla sanità ci torneremo perché poi è uno dei buchi anche economici buchi o quantomeno salvadanaie enormi per il bilancio di una regione quindi è inevitabile è inevitabile parlarne continuerei un attimo sulla questione del lavoro questi sono gli elementi che tu vedresti possibili guardando la regione Lombardia così come questi 17 anni o comunque anche guardandola negli ultimi anni quali sono invece i punti macroscopici che individui di limite? beh il punto macroscopico è stata parlando di lavoro sì 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 è stata l'assenza secondo me di politiche economiche non basta parlare di lavoro la richiesta della CGL è scontata che bisogna rifinanziare gli ammortizzatori in deroga che scadono a giugno e che rischiano di non avere finanziamento però non andiamo molto lontano solo parlando di ammortizzatori allora per fare una politica del lavoro bisogna fare una politica economica per fare una politica economica bisogna sapere dove si vuole portare il sistema produttivo lombardo la regione in un contesto nazionale sicuramente di elettroencefalogramma piatto la regione Lombardia non ha fatto niente per stimolare domande offerte di alcuni settori specifici che in Lombardia sono delle eccellenze ma sono delle eccellenze inserite in filiere che non vengono governate dalle imprese lombarde noi dobbiamo puntare sulle eccellenze per stimolare domande offerte faccio un esempio emblematico se il giorno dopo che si è insediata la nuova giunta mettiamo a punto un piano per la mobilità elettrica commerciale noi facciamo uno stimolo economico ben preciso ovviamente va fatto seriamente non si può fare in 12 mesi bisogna mettersi intorno a un tavolo e decidere quanto tempo ci vuole ma noi abbiamo i dati perché li tira fuori l'università di Castellanza che dicono che è possibile spostare una parte della mobilità commerciale dai mezzi tradizionali ai mezzi elettrici anche utilizzando la formula del nolo delle flotte e non invece la formula di sostenere l'acquisto che è una formula secondo me inefficiente questo è solo un esempio possiamo parlare di questo possiamo parlare delle tematiche ambientali di come la scelta di standard elevati può stimolare l'economia possiamo parlare dell'agricoltura che è un motore fondamentale in una regione come la Lombardia ma se non c'è una programmazione pubblica i sistemi economici abbiamo visto che non vanno da nessuna parte o vanno verso la distruzione delle attività economiche perché le attività economiche lasciate da sole in un mercato come quello attuale è evidente che sono soggette a delle dinamiche incontrollabili dalle stesse imprese serie e le associazioni imprenditoriali da questo punto di vista scusate ma questo secondo me è un dato di fatto sono assolutamente insufficienti incapaci a rappresentare le reali esigenze delle imprese che hanno voglia di lavorare e di innovare sono tutti settori che stanno l'uno al confine dell'altro parlavi di lavoro e come dire accarezzavi la dimensione dell'ambiente e Letizia continuiamo sulla questione ambiente si sulla questione ambiente sto andando sugli elementi macroscopici questo è molto macro ed è la questione amianto in Lombardia si stima che abbiamo 3 milioni di metri cubi di amianto senza contare poi quello che c'è all'interno delle abitazioni la Lombardia ha reapprovato di recente una legge ha stanziato dei soldi che le associazioni che se ne occupano dicono assolutamente insufficienti 2 milioni di euro all'anno per 3 anni quindi primo problema soldi insufficienti per smaltire per bonificare smaltire questo amianto e poi resta il problema di come smaltire tutto questo amianto in sicurezza e di solito poi si arriva sotto casa di chi se sotto smaltire sotto casa dei bresciani dei valtellinesi dei camoni allora il tema amianto non possiamo vederlo disgiunto dal fatto che va rifatta la politica ambientale della regione e in primis va ricostruita l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente senza l'agenzia regionale nei pieni poteri non andiamo da nessuna parte non serve fare i piani perché non abbiamo funzioni di controllo e di programmazione e la prima cosa da fare secondo me sulle tematiche ambientali anzi sono due uno occuparsi delle bonifiche dei siti inquinati e in particolare di Brescia lo dico dall'inizio di questa mini campagna elettorale Brescia è una situazione molto più grave di quella di Taranto molto più pericolosa e va affrontata subito secondo bisogna riformare l'ARPA immediatamente riportare il potere di polizia giudiziaria all'ARPA io ho già consultato uno dei migliori investigatori che si occupano di tematiche ambientali e ha dichiarato la sua disponibilità ad avere il comando della polizia ambientale dell'ARPA e a quel punto si possono fare i piani sull'amianto sulle bonifiche e sulla gestione del ciclo dei rifiuti perché un altro punto fondamentale è che abbiamo 13 inceneritori operativi in questo momento all'interno della regione e una sovraccapacità di incenerimento che è un problema molto serio allora se rimettiamo le mani alle politiche ambientali lo dobbiamo fare incominciando da quell'organismo che fra l'altro è quello che anche in base alle leggi e le normative europee ha il compito di fare la programmazione territoriale e quell'organismo ha anche la capacità di decidere i criteri in base ai quali vanno fatti i piani di smaltimento io trovo scandaloso l'ho saputo ieri che per esempio le bonifiche di Calchitaeggi e di Santa Giulia che tutti i nostri ascoltatori conoscono perché ci sono intorno le grandi inchieste giudiziarie siamo a Milano siamo a Milano ma siamo a Milano in due aree particolari ora le proposte di bonifica sono state rifatte dalla procura della Repubblica perché quelle fatte dagli organismi preposti erano assolutamente insufficienti e contrarie ai principi minimi di sicurezza della salute allora questa è la dimostrazione che la struttura tecnica amministrativa della regione è K.O e non solo della regione e quindi è indispensabile rimettere in piedi questa struttura perché senza questo di politica ambientale non possiamo parlare perché è evidente che c'è la giungla e ci sono gruppi di interesse che nonostante le inchieste continuano a dettare legge in tutti i settori in particolare nel settore delle bonifiche e delle cave io ricorderai una cosa sull'aspetto ambientale oltre alla mancanza dei poteri di polizia giudiziaria che ricordiamo nell'ARPA sono stati tolti da un anno da un anno e mezzo ma c'è un problema la legge va proprio riformata dell'ARPA perché l'ARPA non è un'agenzia autonoma come in tutti in tutti i paesi ma dipende dalla presidenza della giunta regionale e fu commissariata dopo un anno dalla sua nascita e possiamo aggiungere una cosa che l'ARPA è uno sportello per le imprese non svolge una funzione di controllo sono le aziende che chiamano l'ARPA e a fronte di un tariffario certificano le qualità ambientali quindi si è perso tutto il sistema del controllo e l'impostazione europea che è common control che non significa che si deve punire gli imprenditori anche gli imprenditori hanno bisogno di chiarezza ma deve essere una chiarezza all'interno del quale qualcuno svolge i controlli qualcuno definisce le regole e poi tutti ci si guarda in faccia perché il rispetto delle regole deve arrivare prima che arrivi la procura della Repubblica perché lì poi il danno è stato fatto e lo paga la collettività le bonifiche visto che parlavi dell'aria c'è un problema di infrastrutture siamo pieni di cantiere a questo punto in Lombardia perché un cantiere come quello dell'autostrada a Pedemontana che vuol dire a Dalmine già in stato avanzato la tangenziale di Varese e la tangenziale di Como peraltro che non sarà completata perché c'è solo un lotto in costruzione è partito la Brebemi è quella più avanzata la seconda autostrada per Brescia da Milano e poi stanno iniziando in queste settimane i cantieri sulla tangenziale est-esterna come potrai approcciarti con un piano area alla mobilità elettrica con questi cantieri che sono in itinere e che hanno dei diritti legali per avere dei finanziamenti incredibili perché in questi giorni stiamo raccontando la mancanza di soldi per costruire questa infrastruttura allora io credo che i due passi da fare subito sono tutto quello che non è cantierizzato si mette si riverifica cioè tutti i progetti parati e non ancora con cantieri aperti deve essere sottoposto a una verifica deve essere stoppato e riesaminato per capirne le compatibilità gli obiettivi e la sostenibilità ambientale ed economica questo vuol dire fermare tutto per almeno un anno certamente tutti i progetti già decisi vanno rivisti quelli che non hanno i cantieri aperti ovviamente i cantieri aperti mica si bloccano i cantieri aperti bisogna guardarsi anche lì francamente negli occhi e dirsi se i cantieri aperti vanno avanti perché il fatto che la Brebemi la settimana scorsa abbia ricevuto un cambio di azionario per cui la cassa depositi e prostiti è andata a sostituire intesa San Paolo io lo trovo particolarmente grave perché vuol dire che risorse pubbliche perché la cassa depositi e prostiti è quella è andata a sostituire il socio privato in un progetto che finanziariamente ha i piedi d'argilla perché se la Milano Serravale segna meno 6 questo dato ufficiale traffico a meno 6 mi devono spiegare come pensano di far funzionare una tratta come la Brebemi o la stessa Pedemontana di cui non sappiamo quali saranno le tariffe ma è presumibile che le tariffe dei piedaggi dovranno essere altissime sono tutti sull'orlo del fallimento allora anche i cantieri aperti bisogna capire quale sorte devono avere perché poi il fatto che se questi falliscono rischio elevato ci rimane un'eredità che non è un'eredità da poco e quindi bisogna prendere come dire il tema immediato chiamare anche tutti i soggetti finanziari e capire qual è la situazione e cercare di mitigare il più possibile gli interventi però questo non impedisce di fare piani sulla mobilità perché quei cantieri non risolvono comunque il problema ma quelle tratte autostradali non risolvono comunque il problema assorbono risorse questo è il problema ma le risorse secondo me sono un tema che per esempio sulla mobilità elettrica io credo che sia indispensabile fare un piano in cui non ci sono risorse pubbliche da mettere in campo perché non ci si può permettere e perché al massimo devono essere nazionali ma un piano invece operativo concertato con la logistica questo si può fare in una prospettiva a 4-5 anni come fanno i tedeschi i tedeschi hanno varato dei piani sulla mobilità elettrica ma li hanno varati 10 anni fa con previsione 2020 noi dobbiamo partire adesso non arriveremo con la stessa scadenza ma dobbiamo avere il coraggio di dire che questa è una prospettiva reale visto che il 38% delle merci nazionali viaggiano in regione Lombardia quindi abbiamo una pressione pazzesca di movimentazione oltre al traffico privato prego Fabio citavi l'aspetto della mobilità è dei rifiuti abbiamo troppi inceneritori ma abbiamo troppe centrali termoelettriche in questi anni sono state costruite purtroppo ci sono mutui ci sono impegni su tutto questo come intendi muoverti allora noi abbiamo questa situazione perché questo è un tema che mi sta particolarmente a cuore noi abbiamo una sovraccapacità energetica spaventosa siamo riusciti per assenza di programmazione nazionale a mettere in piedi un parco termoelettrico che è più del doppio della domanda attuale ed è quello che genera la gran parte moltissime delle PM10 ricordiamolo dopo le auto basta vedere i dati delle centraline dell'Arta insieme agli generitori però il problema vero è che questi signori che hanno fatto questi investimenti senza una programmazione la settimana scorsa sono andati dal ministro Passera hanno chiesto un fondo per la fermata degli impianti da 1,2 miliardi di euro cioè noi dobbiamo pagare il fatto che gli impianti stiano fermi perché hanno fatto errori industriali questa è una roba che non sta né in cielo né in terra d'altra parte il problema è che queste aziende sono in difficoltà è un dato di fatto a 2A non è che ha 4 miliardi e mezzo di debiti solo perché ha fatto errori anche perché i suoi risultati sull'energia vanno male perché la sovraccapacità crea dei grossi problemi allora i piani per la mobilità elettrica rispondono in parte a questa logica di stimolare domanda offerta cioè di vedere se una mobilità elettrica può essere uno strumento per assorbire una parte di questo eccesso di domanda e poi invece di mettere sul tavolo finanziamenti avremmo bisogno di mettere sul tavolo un piano che dice le centrali che sono fuori mercato escono vanno verso lo smantellamento l'ha fatto la Gran Bretagna il governo conservatore di Cameron ha fatto un fondo per la dismissione delle vecchie centrali noi invece abbiamo permesso di fare nuove centrali a carbone che sono quelle più inquinanti e non abbiamo nessun piano sulla gestione del sistema energetico regionale solo che qua non sono a carbone in regione lombardina no no le abbiamo turbogas sono tutte efficientissime dal punto di vista della resa ma infatti il problema è esattamente questo che abbiamo un eccesso di capacità e dobbiamo fare i conti con questo eccesso di capacità ma in una visione di piano energetico complessivo perché è evidente che abbiamo bisogno di fare un piano energetico regionale di capire quali sono le strategie sapendo che quello che manca è la strategia complessiva da queste cose risulta abbastanza evidente quanto sia folle il progetto sul petrolio italiano nel senso che in questo momento non abbiamo bisogno di nuove energie abbiamo bisogno di mettere a posto quello che c'è già mancano tre minuti alle dieci localmente mosso è il primo degli incontri con i candidati per le primarie del centro-sinistra Lombardo si voterà il 15 Andrea Di Stefano questa mattina è in studio con noi vi ricordo le vostre telefonate tra poco lo 0233 001 001 moltissimi sms stanno già arrivando e mail a diretta a chioccio alla popolare network.it o al 3316214013 prima di proseguire su altri temi Andrea Di Stefano una questione ti sentivo parlare di elementi anche tecnicamente molto specifici mi spieghi la tua diagnosi del perché tutti questi temi o gran parte di questi temi in questi anni non sono diventati non dico pratica in Lombardia ma neppure agenda politica e quando parlo di agenda politica parlo di un campo largo di pensiero non è del tutto vero che non siano state agenda politica io francamente riguardando per esempio atti dei gruppi della regione del PD di SEL dell'IDV ho trovato molte tracce di questa di questa azione che ovviamente non è finita sulla stampa sui media perché c'era come dire un uomo solo al comando e anche una comunicazione unica insomma e quindi era molto difficile far emergere questo lavoro ma molte tratti di quello che sto dicendo c'è nei documenti ufficiali nei progetti di legge negli atti del consiglio regionale per esempio sul consumo di suolo non è vero che i gruppi regionali dell'opposizione non abbiano fatto nulla il problema è che evidentemente dall'altra parte avevano il muro di gomma e dall'altra parte avevano un muro di gomma per due ragioni uno perché quell'uomo solo al comando aveva anche un gruppo di interessi affaristico clientelari che si portava dietro e quindi le politiche della regione non erano finalizzate a fare strategie collettive per il bene comune ma strategie per un solo gruppo d'affari due perché all'interno della regione sono stati insediati la denuncia di oggi la trovate sulle 24 ore perché è una denuncia molto rilevante l'abbiamo letta proprio all'inizio della trasmissione sulla quale ho lavorato anch'io il fatto che ci sono 31 dirigenti tutta la prima linea di dirigenza che di fatto sono illegali perché sono stati assunti con contratti firmati dal segretario generale sanese che è stato addirittura contestato dal TAR quindi questo significa che l'occupazione mano militari della cosa pubblica è stata fondamentale per quello che la discontinuità deve essere totale secondo me su questo non ci possono essere tante mediazioni come siamo abituati a fare nella politica tradizionale il timore di dire che se si cambia si fa danno a qualcuno qui se si cambia si fa il bene di tutti non è che si fa del male né all'amministrazione regionale e alle tantissime persone di qualità che ci sono all'interno dell'amministrazione regionale né all'insieme della macchina complessiva e persino alle varie categorie gli agricoltori gli imprenditori che credo anche loro si fossero un po' scocciati del fatto di dover dialogare sempre con la CDO e gli annessi e gli annessi e gli annessi